Ebbene ci siamo, mancano pochissimi giorni all'arrivo della stagione 20 e noi stiamo arrancando fortissimo per riprenderci questo master dopo una pausa di oltre due mesi da Apex e devo dire che sta andando piuttosto bene, ci stiamo divertendo mancano ormai pochissimi giorni all'uscita della stagione 20 che porterà veramente un sacco di novità probabilmente sarà l'aggiornamento più grosso che abbiano mai messo e se ancora non sapete nulla e siete interessati a questi cambiamenti vi invito a passare su TikTok dove ne ho parlato in maniera molto ampia nei vari Reels che troverete sul profilo, trovate i link in descrizione anche qui su YouTube negli shorts troverete qualcosa e anche qui su YouTube arriverà un mega video in cui parleremo di tutte le news e di tutti quelli che potrebbero essere poi i risvolti che vedremo nella stagione 20 arriverà più o meno il giorno prima dell'uscita della stagione quando usciranno, quando avremo le patch notes complete finalmente di questa stagione 20 devo dire che sono veramente super carico, super in hype per questa stagione sarà come avere un Apex Legends 2 dovremo rimparare a giocare al gioco dovremo imparare di nuovo tutti i personaggi tutti quelli che sono i cambiamenti studiarci anche magari il meta ed è veramente molto bello sono veramente molto felice di ciò oggi vi faccio vedere altre due partite in ranked passiamo da diamante 4 a diamante 3 devo dire che il diamante 4 è stato piuttosto travagliato mentre il diamante 3 2 e 1 invece è andato bello spedito il diamante 4 abbiamo fatto un sacco di top 2, top 4 però nessuna win ma tutto sommato direi che dopo la pausa che abbiamo fatto su Apex poteva andare molto peggio questa scalata io vi invito come al solito a seguirmi e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto restate sintonizzati perché la season 20 ragazzi porta un sacco di news e ho anche un sacco di idee che voglio portare appunto sul canale detto ciò fate i bravi fate i buoni lasciatemi un like lasciatemi un commento pompate l'algoritmo come si dice pompatemi l'algoritmo con un botto di commenti qua sotto fate i bravi fate i buoni noi ci vediamo ad un prossimo video arriva attenzione c'è un nuovo leader uccisioni nuovo leader uccisioni mi fatevi sentire io non ho pick lo vorrete solo voi pick e qua dentro uscirà da qui e lo laseriamo 3 2 1 vai percato percato no ha swappato non ci credo mi sarà preso un infarto mamma mia che infarto e beh che poi ho trovato lo swapp lì dentro lo metto qui dietro così cerchiamo di volare a su un'invito lo fa al giro largo passiamo dal top qua passiamo dal top qua che stanno fai dando giù poi non avete più qualunque non l'ho no no non lo possiamo utilizzare ragà dobbiamo prendere queste alle spalle E gli spara l'altro team Sono inculati questi Mi sparano a me quei mongoloi L'ultimo, l'ultimo Abbiamo un po' di safe qua davanti Dov'è l'ultimo? È ancora lì dietro la roccia Eccolo Ok questi ci guardano Tracciata Ok perfetto Vediamo Davanti a me Quattro uno È rosso? No 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 aspetta 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 che non vorrei che si avvicinano con l'impiato Sì ci guardano tutti Sì ci guardano a me che si avvicinano con l'impiato Giriamo ora Giriamo ora di qua Qui dobbiamo spingere tantissimo Sì 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 Stiamo belli larghi Perché da la bamba Oh no Mi sono detto a due Ok 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 Troppo avanti Lo hai troppo avanti Troppo avanti Troppo avanti Becco, becco un attimo, becco un attimo, faccio basso Piano piano piano, ce l'abbiamo compa, sei troppo alto, mi devi augurare Ho provato tutti i bb Ok mi sto rispettando, ho cercato uno, ho cercato con la Ud, eh Ok L'ho cercato uno, l'ho cercato uno L'ho cercato uno Uscio Non ci vedo Flash, flash, flash Raggiungi Mi sembra un hate, raga Muoversi Ma, eh, qui tenendo Qui c'ho una granata a flammettazione Area ad effetto elevata Mi sto curando Abbiamo gente panni, ci hold da notte Faccio una pausa Ok, posso che lo vengono? Mancano trenta secondi Vabbè, cazzo Mi tiro accelerante Sto bene, niente paura La smoke, hai la ulti, Lore? No, 70% Ok, quando Rino è pronto, gli smoke li busciamo Io, io c'ho la ulti Sì, siete? Sì, 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 sì Vai Dove sono? Non lo so Ho procato Questa che è destra Venite da me Venite da dentro No, ci tengono position Sì, sì, sì Non fai niente Lore, c'è la smoke Vai, vai, smoke li, smoke li, smoke li A me è ora, venite da me è ora Arrivo Mi ha fatto il ratto, raga No, mi ha fatto il ratto, raga No, mi ha fatto il ratto Non ci credo, raga Mi ha fatto il ratto Il blowdown E uno più uno Abbiamo ammazzato i due Uno più uno Con il ratto Credibile Non ci credo Il ratto vince Il ratto vince la partita Mi ha fatto il ratto 130 di Elstar, compa Cioè, io sono morto dal ratto Non ci credo La condizione sto guardando C'ha 13 punti di partituzione 130 dal ratto Beh, ma non è scalato un pezzo qua Ha perso il ratto Ha perso Non ci credo Ha solo griffato il game Ho anche tirato la cura Quindi Ti rifugio Dalla casa Dalla casa Da lì sotto 130 di Elstar Mi ha fatto Che cazzo sto dicendo La relatività è Relativa Ecco il campione Comunque non l'ho poco sentito Quelli col pat Sono Jumpmaster Ci lanciamo in zona calda o Ehi, sono la Jumpmaster Pronta Chi fai? Oh, fuck Ah, è stato incredibile Ok, ora mi annoio Ah, è stato incredibile Ok, ora mi annoio Tenete duro È ora di scendere Stordire e spaccare C'è già un team là Sono davanti a noi Guardate 3, 2, 1 E' fermo qua Ce l'ho Ce l'ho Mamma mia È una rottica Di me che si è sassata Mi è voluto qua sul test Stanno ressando Tutta banga All'altro Forse l'altro È quello là, sì Forse è quello Mi tiro Phoenix Easy Io gli ho fatto 50 Io ho 60 Eh, io gli ho fatto netshot e 45 Oh, da dietro La giocavravamo noi Sono, sono open, eh Non so Eh, non sarebbe male Andargli da dietro A questo Che titer Sì, anche secondo me Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Riesco a lotare qualche cura Senza che mica con il cazzo Non c'è niente Ma, eh, vieni, dobbiamo Andiamo, pushare a questi qua Arriva, arriva da voi Arriva da voi Che quattro sette, il craccato Dov'è la safe? Mi sa che dobbiamo pushare loro C'è, sì, dobbiamo andare Dove stanno? Qua, qua davanti Non c'abbiamo la safe, stanno Da me c'è la safe Dalla safe Ok, ok, sì, è vero, è vero Possiamo giocare Spostiamoci qui Io non li, io non li vedo questi qua Oh, guardate, tetto, tetto, tetto Hanno un knock Guarda il, madonna, non riesco a prendere Cos'è la safe, fat vibe Arriveranno, eh Io li potrei guttare Mi ho fatto male a voi Pironade Potremmo pulirci lì, questi, dietro, se volete Eh sì Ti uso Se riusciamo, non farò No, raga Abbiamo un team dietro No No, è cambiato Dove sono? Da me Eh, la capis, da me, da me Mi salgo su Qui dietro, un team Regà, qua da me abbiamo un'altra zona Sì, sì, sì Davanti a me è l'uta Una Il tuta, mamma mia, one Buona la nade Avete trova Puoi, se lo knocko, eh Posso non ho qui nade Noc, 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 noc Lo confermo pure di nade Mi volano addosso Sì Sono con te, sono con te Salgo da qui, è superiore, questo là Fanno nell'angolo? Si, sono medico 95, 95 è il fatti Nooo, un altro punti No, 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 no No, porca Oddio, lo sapevo Che lo facciamo? Dovremmo farci vedere No, no, no No, no, no Distruta quando c'è un problema Grande No, no, z tesoro C'è gente che punta su di tutti Mi uro, se prese Ok, un voto E' l'altro team eh Resettiamo, reset, reset Con calma Ah, ancora qua sopra sono questi Quanti sono? Mi sa che sono ancora full Non lo so, sono qua dietro st'albero E' l'altro team? Non lo so Non lo so Bello led Scendono giù Ok, benissimo Sono scesi Davanti a me i conti 101 101 Gli ho fatto Noccata, noccata, noccata L'ultimo team Ancora sono due squadre, ancora sono due squadre Ah Perché è morta subito questa? No, l'ho confermata io Ah L'anello è vicino Ragazzi Un è morto Credo che siano Credo che siano Dovrebbero essere due ratti Sì Sento, li sento, li sento Uno mi sa che da me Dicomè? Uno dovrebbe essere qua Tutti insieme L'ho sentito qua Da me Ok L'altro dovrebbe essere nel fondo Ricarico gli suoi Ragazzi In dietro 41 Percazzo 122 con un colpo di PK Ho fatto quella In chiamato 30 30 30 Qualsiasi cosa Dicomè 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 Un'altra